Allora, diamo il bentornato a Nicola Lanzola che dopo tanti anni di Serie C, l'ultima stagione è stata alla Gravina. Tonno Monopoli è un tuo obiettivo da parecchio tempo, c'erano stati già dei contatti con la società negli anni passati? L'anno scorso potevo ritornare, poi per alcune cose non è stato fatto, però non nascondo che sono veramente contento di essere tornato qui a Monopoli dove negli anni, nove anni fa, nel 2009-2010 sono stato di nuovo e quindi non nascondo che sono contentissimo di riabbracciare questi colori. L'età è quella giusta, sei in classe 1989, eri una promessa della Berretti, l'allora allenatore del Monopoli Berretti ti arretrò a posizione di difensore, che è stato il ruolo che hai ricoperto durante la carriera, però ricordiamo che hai fatto anche il terzino nel Monopoli all'occorrenza. Mi ricordo, forse era un Monopoli Manfredone, non mi ricordo, l'esterno, comunque sì, in Berretti il mister Comes, mi ricordo, che mi ha trasferito dietro e da lì ho sempre fatto il difensore centrale, qualche partita l'anno scorso ho giocato da centrocampista, però mi ha dato. Diciamo che troverai un Monopoli diverso dall'epoca, i tempi sono cambiati, quella era la C2, questa è una Lega Pro e la terza serie nazionale, quanta voglia hai di misurarti con squadre di un grande blasone, soprattutto con un livello più alto rispetto ad anni fa? Niente, so che il campionato è un campionato molto importante e duro, però io con la voglia che ho voglio dare una mano a questa squadra, a queste città e a questi tifosi. Ti senti un protagonista nel nuovo progetto del Monopoli? Vorrei esserlo, certo, è normale. Noi facciamo l'in bocca al lupo a Nicola, gli diamo nuovamente il bentornato e soprattutto noi chiuderemo sempre con questa frase, forza Monopoli. Certo, forza Monopoli. Noi facciamo l'in bocca al lupo a Nicola, gli diamo nuovamente il nostro corso.